Benvenuti cari fan, buon 2018, un saluto a tutti quanti voi, buone feste e buon anno, grazie per i 150 like sulla pagina e i 44 iscritti sul canale Fazzara e su YouTube. Grazie a tutti e ricordiamo che il 2018 sarà l'anno del dragone. E un saluto a tutti per i 16. Seguitevi per tutto il 2018, grazie. Ok, ci salutiamo amiche, grazie a tutti, grazie a voi, scusate per se sceminatevi perché sto un po' con la pezzo con lui. Sei un grande amico, ciao amiche, ciao. Ciao, ciao, buon appetito, ciao.